Un fine settimana all'insegna del cicloturismo con 5.000 marche che torna per l'edizione 2023. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre prendono il via tre giorni di eventi dedicati agli appassionati della bicicletta che possono cimentarsi in nuove sfide e scoprire il territorio marchigiano, i suoi borghi, il cibo e le tradizioni. Le marche si prestano benissimo ad essere un circuito a cielo aperto, tra l'altro le due ruote credo che sia uno dei mezzi migliori per poter scoprire il nostro bellissimo territorio fatto di montagna, fatto di dolci colline e fatto ovviamente di mare. Quindi credo tre elementi meravigliosi che consentono proprio di avere tra l'altro dei bellissimi paesaggi mozzafiato e non è la prima volta che le marche si prestano a questa avventura se vogliamo così definirla e quindi 5.000 marche sta proprio a significare che 5.000, mentre è il dislivello che coloro che verranno a scoprire le marche in bicicletta appunto avranno l'opportunità di provare. La città è pronta ad ospitare questa grandissima manifestazione organizzata in maniera perfetta da Andrea Tonti e noi siamo ben felici di ospitarla ancora una volta e metteremo il nostro abito migliore per questa manifestazione. Alla fine dobbiamo promuovere un territorio, abbiamo con 5.000 cercato di creare un brand di territorio che possa negli anni fermarsi sempre più e come accade in altri ambiti, in altre regioni che hanno iniziato decenni a credere in questi progetti, stiamo crescendo perché comunque sia un grandissimo lavoro di squadra un territorio spettacolare che noi conosciamo ma dobbiamo essere bravi a far conoscere anche a chi visita magari la nostra regione per la prima volta e siamo pronti, manca poco, il tempo, il meteo è dalla nostra parte quindi ci aspettiamo un grandissimo weekend a Porto dei Canati. Un grande evento che va sicuramente nella strada della grande destagionalizzazione quindi è chiaramente un evento che può collegare la costa al nostro interno e quindi ancora una volta attraverso lo sport facciamo promozione di tutte le eccellenze del nostro territorio. Il sport marchigiano ci sta abituando in questi ultimi periodi ai grandi successi però come amo ricordare io lo sport non è solamente il lato agonistico ma è tanta altra roba tra questo c'è sicuramente l'importanza tra sport e turismo e questa manifestazione che oggi andiamo a conoscere nei dettagli è proprio una di quelle perché per tre giorni porteranno sicuramente sul nostro territorio tantissimi appassionati di ciclismo ma che oltre ad essere appassionati di ciclismo fanno conoscere le nostre meraviglie. Pertanto i complimenti da parte del CONI Marche agli organizzatori perché con queste manifestazioni sicuramente riusciamo a coniugare sia l'auto agonistico ma anche far conoscere le nostre bellezze.